Benvenuto, io sono Deodem e questo è Dark Souls Level 1 Cercheremo di battere Smaug e l'altro tizio felice con la lancia Ecco il cane Porca Eva, porca troia Ma vaffanculo Ok, riproviamoci ancora, stavolta cerco di focussare Smaug Eccolo No, merda Ma vaffanculo, porca Eva Aia Ma vaffanculo Ah, salve Vabbè, vabbè No, c'ha morto Cazzo Riproviamoci Ah, no, no, ho fatto la cagata Ecco, infatti Non spostarti Sì Sì Total useless, visto che adesso non ho nulla di vita Ah, bene Anche ottima posizione di partenza, top perfetto, grazie gioco Ah, morto Allora Smaug sembra più fattivi da dire giù Ma Ma Non devo farmi queste troiate Aia Aia Brucia Ma va Da quando Come Ciccione malefico Ma Ma perché Ma perché Guardalo Ma 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 Dove Fior Fior di 96 d'anni Ma 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 Si Si Scia Ma Ma Si Ma 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 SANTO, PLEASE, PLEASE, NO QUELLO, PARTRO, TI PREVO, ASSETTA, VA, OK, VAI, 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 HAI UCCISO, SI, 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 OH DIO SANTO, OH DIO SANTO, OH DIO SANTO, ASSETTA, VAI, HAI UCCILI, SI, OH DIO intuitively, GIDI laisser, case, Grazie per la visione!